gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia normalmente giorgia meloni presidente di fratelli d'italia non è non è il politico che scrive ogni due giorni al corriere della sera ma questa volta ha voluto scrivere visto che il corriere della sera ha proprio fatto un articolo ieri ovviamente contro meloni e salvini inquadrate anche il corriere della sera falsi neutrali ma realmente schierati con il centro sinistra guardate anche l'assunzione di roberto saviano per fargli fare mille lavori mille rubriche questo vi fa capire qual è il il modus operandi di questo giornale quindi meloni scrive scrive perché proprio dicevano spaccatura nel centrodestra perché la meloni e salvini hanno detto si condanniamo le violenze ma l'hanno detto troppo leggero secondo il corriere della sera in un articolo proprio di ieri l'hanno detto in modo leggero quasi a volerlo difendere non lo hanno attaccato non sono stati abbastanza duri quindi accuse assolutamente assurde 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 e così vediamo la lettera di giorgia meloni che scrive al corriere della sera dice gentile direttore negli stati uniti sono accaduti in queste ore eventi clamorosi e gravissimi culminati in una surreale irruzione nella sede del congresso americano che ha causato diversi morti un quadro scioccante eppure per molti in italia sembra tutto semplice la tesi sostenuta in sostanza è negli usa c'era un dittatore pazzo che è stato sconfitto ora ha vinto il bene sul male ma giorgia meloni non ha preso sufficientemente le distanze dal mostro trump a volte dice invidio chi ragiona in modo così banale se non altro perché a fine giornata non rischia l'emicrania per aver fatto lavorare il cervello rispondo per punti alle stupidaggini che ho letto sul mio conto allora esilarante fantastica giorgia meloni bene quello che dice allora io quando ero giovane insomma quando ero giovane 46 anni quando ero giovane c'era un mio amico che diceva all'altro prestami la testa prestami la tua testa oggi perché non ho voglia di pensare a un kaiser no e mi è rimasto in mente questo prestami la tua testa perché oggi non ho voglia di pensare a niente come dire sei un sei così stupido prestami la tua la tua il tuo cervello la tua testa almeno per oggi così non penso a niente me lo ricordo dopo dopo vent'anni e beh vita vissuta a tempi moderni insomma giorgia meloni è bellissimo quello che ha detto no la tesi è questa negli usa c'era un dittatore pazzo che è stato sconfitto ora vinto il bene sul male no il bene sul male idem che sono il bene sul male l'uomo di destra cattivo dittatore pazzo no perché adesso l'hanno bollato come un pazzo toglietegli i codici nucleari perché potrebbe lanciare un attacco missile missilistico balistico intercontinentale contestate multiple nucleari contro gli altri stati toglietegli la valigetta è un pazzo instabile dice nancy pelosi speaker della camera bene quindi giorgia meloni dice a volte invidio chi ragiona in modo così banale se non altro perché a fine giornata non rischia l'emicrania per aver fatto lavorare il cervello bene lo suddivide in punti giorgia meloni punto punto 1 dice non faccio parte in alcun modo dei condannatori di violenze un tanto al chilo quelli per i quali la violenza è giustificata se di sinistra ed uno scandalo si arriva da chi è contro la sinistra e qui dice quello che ho sempre anche affermato io se se si insulta salvini e meloni e vabbè ma sono fascisti nostalgici imperialisti nazionalisti brutti cattivi sono il male assoluto se lo fa uno di sinistra come è quello che ha fatto e non non ho sentito non non so realmente ma guarda cosa ha detto quello di sinistra ah vabbè ma sarà stata una giornata no su cosa vuoi che sia insomma ecco oppure il silenzio il silenzio omertoso la complicità e giorgia meloni dice giustamente per quelli che la violenza è giustificata se è di sinistra ed è uno scandalo se arriva da chi è contro la sinistra lei dice non ho mai avuto timidezza nel condannarla perché la violenza è violenza ed è sempre un'implicita ammissione di inferiorità è stato così anche stavolta come le tante altre nelle quali ho denunciato denunciato violenze su cui quelli che oggi pontificano tacevano colpevolmente davvero sono sfuggite le recenti immagini delle devastazioni prodotte dai black life matter e si si è considerato legittimo che possa pagare con la vita chi assalta le istituzioni come accaduto a washington perché a chi si scagliava con un estintore contro le nostre forze dell'ordine sono state dedicate aule del parlamento italiano non c'è una violenza giusta e una sbagliata come una sinistra disperata ormai teorizza e finché su questo non sentirò parole chiare non accetto lezioni insomma giorgia meloni sta facendo una lettera magistrale una lettera magistrale lei non è avvezza a scrivere al corriere la repubblica dove berlusconi che un giorno sì un giorno no caro direttore ti scrivo così mi distraggo un po insomma quello che ha scritto giorgia meloni è una fotografia esatta della realtà quella fotografia che io ho fatto più volte nell'arco di questo anno e mezzo di attività del canale che ha guadagnato anche oltre 100.000 iscritti quindi vuol dire che secondo me un fondo di verità in quello che dico c'è se no non mi seguirebbe nessuno bene quindi non c'è una violenza giusta e una violenza sbagliata certamente se la la violenza è violenza che sia di destra di sinistra che sia fatta verso la destra o verso la sinistra non si può giustificare una parte di violenza perché insomma siamo dalla parte dei buoni una violenza dalla parte dei buoni si può giustificare mentre contro quelli che la superiorità di sinistra indica come i cattivi a lì si può insultare minacciare le minacce di morte a salvini ma cosa volete che siano le diffamazioni gli insulti verso il leader del centro-destra ma cosa volete che siano le statuette tirate contro berlusconi su via e poi chi si dà la colpa è colpa loro sono loro che hanno aizzato i buoni e ce ne vuole per aizzare i buoni perché i buoni i buoni sono buoni ma quando poi si arrabbiano perché i cattivi fanno i cattivi a oltremisura insomma qui siamo al punto 1 nel prossimo nella prossima nel prossimo video andiamo avanti con la lettera di giorgia meloni perché insomma è degna di diversi di diversi commenti io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci e grazie